Lievito madre in acqua. Io sono Andrea Di Giglio, chef pasticcere, professionista dal 2004. Attraverso i miei videocorsi formativi aiuto appassionati, aspiranti pasticceri, pasticceri e tutte le persone che vogliono migliorare in pasticceria e vogliono capire la pasticceria in maniera semplice ma professionale. Qui sotto infatti ti lascio nel link in descrizione i miei percorsi formativi. Si può partire dalle basi fino a realizzare piccoli grandi lievitati, torte classiche, torte moderne, torte da forno, crostate, cake e biscotteria. Insomma un'academy al completo, clicca qui sotto per iscriverti oppure puoi parlare con un mio operatore per capire un attimino qual è il percorso più adatto a te. In questa lezione parliamo del lievito madre in acqua. Abbiamo visto nell'introduzione che una volta creato il lievito madre, quindi abbiamo la nostra massa, il nostro impasto di acqua e farina con dentro batteri e lieviti, abbiamo questo microbiota che sviluppa e quindi riesce a far lievitare i nostri impasti. Per intenderci come noi siamo famosi in Italia per il panettone, infatti questo panettone è fatto con il lievito madre. Il lievito madre è un impasto semplice ma che va gestito, infatti in questa lezione vediamo il lievito madre gestione in acqua. Il lievito madre gestione in acqua è un lievito che una volta formata una palla si mette all'interno dell'acqua. Abbiamo visto che si può essere fatto in crema come il licolì, può essere fatto tenuto libero quindi in un vasetto, può essere messo all'interno di un sacco di juta o metodo milanese con la corda, quello legato, metodo legato, oppure in acqua. Tenere un lievito madre in acqua vuol dire che sviluppa una microflora differente dagli altri lieviti, soprattutto dall'icolì che è un lievito a parte. Il lievito madre in acqua ha delle caratteristiche ben precise. Innanzitutto, siccome è proprio conservato in acqua, l'eccesso di acidità viene disciolto nell'acqua, viene disperso nell'acqua, quindi è un lievito, come consiglio nel corso pasticciera lievitata, è un lievito che è più facile a gestire. Se nel lievito, il lievito ad esempio legato, metodo milanese, o un lievito libero, la gestione è leggermente più difficile, soprattutto il lievito legato, non è difficile, la gestione è un po' più attenta, bisogna essere un po' più inquadrati, perché ovviamente il lievito è contenuto all'interno di un sacco di juta, di un torcione legato, comunque fa pressione, tutta l'acidità rimane dentro, mentre invece mettendolo nell'acqua l'acidità si disperde nell'acqua. E questa acidità, infatti, è il problema della gestione del lievito fondamentalmente. Quando si dice lievito troppo forte, perché è troppo acido, no? O lievito debole, cioè è poco acido, poi lo vedremo piano piano. In linea di massima il lievito, quindi gestione in acqua, è più semplice perché l'eccesso di acidità, soprattutto la lattica, si disperde nell'acqua e quindi è un lievito che inacidisce con più difficoltà. Come faccio vedere nel corso pasticciera lievitata, il panettone con lievito madre, gestione in acqua, faccio vedere infatti che per il riposo notturno nelle 16-18 ore lo lascio nell'acqua. Inizialmente quando si forma l'impasto va sul fondo, nell'arco di un'ora 50-60-70 minuti viene a galla. Una volta che è venuto a galla, nelle restanti ore lui piano piano si apre, si gonfia, forma una crosta, la mattina questa crosta si leva, si prende il cuore, si rinfresca. In questo caso c'è chi lo tiene sempre in acqua, io invece consiglio di metterlo a secco durante il giorno per non stare sempre a mollo nell'acqua, perché comunque l'acqua è vero che è un veicolo per i lieviti, però è anche vero che stare sempre nell'acqua perdiamo un eccesso di acidità lattica, quindi perdiamo gusto, quindi sarebbe meglio di giorno farlo lavorare perché il lievito, come ho già detto in altro video, nelle 8 ore deve lavorare e nelle 16 ore deve riposare, quindi di notte lui deve riposare, tendenzialmente si può far riposare anche in una cantinetta di quelle tipo vini, si trovano anche su Amazon a 16-18 gradi per il riposo notturno, mentre invece di giorno va fatto lavorare. Va fatto lavorare cosa vuol dire? Che una volta ha preso il lievito la mattina, si rinfresca con la farina e l'acqua, ovviamente bisogna vedere le percentuali di farina, bisogna vedere le percentuali di acqua, le temperature, sono tante cose da vedere, si utilizza, si fanno i rinfreschi, si mette negli impasti e poi lui di sera, come un atleta che di giorno ha lavorato, di sera deve riposare. Questo è il concetto di base, però di sera la gestione in acqua si mette nell'acqua, si mette nell'acqua perché così l'eccesso di acidità la perde nell'acqua e la mattina non è eccessivamente acido. Infatti qual è la differenza di base già tra una gestione in acqua e una gestione nel sacco? La differenza di base è l'acidità, l'eccesso di acidità lattica se usiamo il metodo in acqua viene persa e quindi è di più facile gestione. È molto importante per il lievito in acqua, non ci deve essere neanche una quantità di acqua esagerata, cioè non può essere una pallina di lievito con 10 litri d'acqua, ma deve essere una quantità adeguata, cioè una caraffa che riesca a far sviluppare il lievito con un po' di acqua sotto. Ci sono anche delle formule, ci sono dei metodi, però in linea generale un po' d'acqua, quindi non 50 litri d'acqua, un po' d'acqua che contenga il nostro lievito a molle, una caraffa abbastanza stretta e alta che lo contenga per farlo aprire, una classica caraffa. Le percentuali di farina in questo caso rispetto ad esempio al lievito madre nel sacco che acidifica di più possono essere minori, cioè un lievito madre gestione in acqua può essere rinfrescato ad esempio con una parte di farina, ad esempio uno di lievito, uno di farina e tra un 45-50% di acqua, ma non nel primoro in fresco perché il primoro in fresco viene dall'acqua quindi anche un 35-40% di acqua. Su questo vedremo il processo produttivo, in maniera semplice vi dico siccome il lievito sta in acqua la mattina si trova in ammollo, è molto pieno d'acqua, si strizza ma se è eccessivamente idratato poi si riscioglie completamente, quindi di solito un lievito preso dall'acqua, il primo rinfresco si fa un 35-40% di acqua perché comunque dal 5 al 10% di acqua l'assorbe già nella caraffa quindi arriva circa un 45-46-47%, quindi il primo rinfresco un 35-40% di acqua sul peso della farina, di solito i secondi rinfreschi si fa un 45% di acqua, c'è chi fa il 50%, però in linea di massima sappiate che se voi di non andare oltre il 50% di acqua sul peso della farina, io di solito so al 45% di acqua sul peso della farina, a meno che il primo rinfresco che viene dall'acqua so un 35-40% di acqua in modo tale che è più duro. Il motto infatti di molti panettieri era lievito duro, panettone sicuro, perché? Perché è così, perché un lievito eccessivamente duro neanche va bene, perché ovviamente se lo idratate a un 35% di acqua, al secondo, al terzo rinfresco quindi è troppo duro, poi la maglia è troppo rigida e lui non riesce neanche a sviluppare, quindi neanche troppo duro, però deve essere abbastanza compatto, infatti generalmente un 45% di idratazione va più che bene, ma non troppo lasso, se facessimo rinfreschi al 50-60% di acqua risulterebbe morbido e poi messo nell'acqua si discioglie. Il lievito in acqua quindi abbiamo detto ha la gestione, grazie all'acidità viene persa nell'acqua, quindi gestione facilitata. I rinfreschi non vanno esagerati, ad esempio nel lievito nel sacco, i rinfreschi della mattina si possono fare uno a due, uno a tre, cioè uno di lievito, due di farina con il 45-50% di acqua, perché? Perché la farina ha effetto tampone, quindi più farina mettete, più l'acidità la andiamo a tamponare, più il lievito lo basifichiamo, ok? Più farina mettete, più allungate la levitazione, più avete un lievito che viene tamponata l'acidità, meno farina mettete, più il lievito acidifica prima, quindi esempio per una gestione libera, per una gestione del sacco, più farina, uno a due, uno a tre, anche il primo rinfresco della mattina lo aiuta a basificarlo un pochettino. Mentre invece il lievito madre, gestione piemontese, 1 a 1, 1 a 1 e mezzo, se è proprio acido, 1 a 2, ecco, però non sopra l'1 a 2, io generalmente faccio 1 a 1, se è proprio acidino, o comunque 1 a 1 e mezzo di farina, o 1 a 2, se è proprio acido, si può fare, ma non 1 a 3, come si fa ad esempio nel lievito madre nel sacco. Quindi le percentuali di acqua abbiamo visto da un 35-40% per il primo rinfresco, le percentuali di acqua per il secondo e il terzo rinfresco, se si fa ancora la vecchia maniera, questi sono altri discorsi, un 45-50% di media, sul 45, le percentuali di farina, di solito si fa 1 a 1, 1 a 1 e mezzo, 1 a 2 se è proprio acido, che nella gestione piemontese, a meno che non superate temperature elevate, non c'è questa acidità. Per quanto riguarda quindi la gestione dell'acidità, le temperature, anche lì, le temperature vanno a incidere sul lievito madre, quindi se voi avete delle temperature eccessive di stazionamento, perché un lievito madre in acqua di solito deve stare in una cantinetta tipo vini 16-18 gradi, 16-18 ore, una cantina comunque, luogo fresco, se voi lo lasciate d'estate a 24-25 gradi, la mattina sicuramente è molto più acido, ok? Si può fare anche conservazione in frigo, quindi se non si ha una cantinetta si fa, si rinfresca, si lascia un 2, 3, 4, 5 ore, dipende dalla temperatura in modo tale che parta, poi si mette in frigo e lui tutta la notte rallenta il suo metabolismo e il giorno dopo si rinfresca. Anche se vi dico che un lievito madre tenuto sempre in frigo, dopo diventa debole, infatti sarebbe meglio una cantina. E poi da mattina, quando invece si prende, le temperature ovviamente sono importanti. Sappiamo che il range dei lieviti va dai 24 ai 30 gradi è l'ottimale, quindi sotto i 24 rallentiamo il metabolismo, sopra i 30 gradi aumentiamo il loro metabolismo, però sopra i 30-32 iniziano a soffrire, quindi dai 24 ai 30 loro lavorano bene, dai 30-32 in poi loro vanno in sofferenza, sotto i 24-22 loro rallentano, quindi dai 24 ai 30 per farlo lavorare questo lievito. Generalmente quindi la mattina si arriva, si trova il lievito gonfio, c'è una crosta che deve essere una crosta ben definita, si prende il cuore, si rinfresca 1 a 1, 1 a 1 e mezzo, se acidino 1 a 2, con il 35-40% di acqua sul peso della farina, perché è il primo rinfresco, e si mette al caldo, quindi o in forno con luce accesa, o si mette in una ferma lievita, si fa sviluppare. Generalmente, allora qua ci sono tante teorie di pensiero, tanti maestri, ognuno vi insegna una cosa. Io come vi dico sempre, quando un maestro vi dice che c'è solo un metodo per fare una cosa, e in verità non ti sta insegnando nulla, perché il lievito può... adesso c'è la tendenza a farlo sviluppare due volte e mezzo, due volte sette, ma la vecchia guarda, guardi, i lievitisti l'hanno sempre portato al triplico. Adesso c'è la tendenza anche a farlo sviluppare al raddoppio. Sono tutti giusti i metodi, semplicemente dipende il maestro che ti insegna queste cose e come ti trovi bene tu. Un lievito madre si può prendere al raddoppio? Sì, tendenzialmente a due volte e mezza, io dico due volte sette, due volte otto. Anche al triplico, da quello che ho imparato io, dalla mia esperienza, i lievitisti usano il lievito madre al triplico, ok? Quelli di una volta. Adesso si tende a due volte e mezzo, due volte sei, due volte sette, due volte otto. Non cambia così tanto. L'importante è che si faccia sviluppare questo lievito e sviluppa in 3-4 ore dai 26 ai 30 gradi al caldo. Lui sviluppa, poi si riprende il cuore. Se usate il metodo tradizionale si fanno in tre rinfreschi per partire ad esempio con un grande lievitato, come faccio vedere anche nel corso. Due rinfreschi per partire ad esempio con vienose rimista o lievitazione di piccoli lievitati, come faccio vedere nel corso. Oppure un rinfresco, come ho fatto io, svariati panettoni a un rinfresco. C'è la tendenza a dire che se si fanno tre rinfreschi il panettone dura di più ed è sempre quello che è stato detto. Io ho provato in questi anni di esperimenti a fare panettoni a un rinfresco e vengono. Vengono bene, si conservano comunque bene. Probabilmente il primo rinfresco ci vuole un po' più di farina per rallentare un po', per aumentare un po' la durata dello sviluppo del lievito. Ad esempio si può fare un rinfresco la mattina 1-2, farlo sviluppare due volte e mezzo, due volte e sette, fino al triplico, prendere il cuore e partire con gli impasti. Quindi ci sono tanti metodi. Ricordati che quando un maestro ti dice l'unica via è questa, in verità ti sta dicendo solo quello che lui sa, ma perché ha imparato in quel modo lì. Io ho avuto la fortuna di imparare da tanti maestri, ho visto tantissime persone lavorare, io sono un creativo quindi continuo a sperimentare e ho visto che tutti i metodi sono buoni se stai cosa stai facendo. È importante quindi il lievito abbiamo visto di giorno lavora, di sera deve riposare, le percentuali di acqua le abbiamo viste, le temperature del range dei lieviti le abbiamo viste, però il lievito, come abbiamo detto, le temperature per il riposo notturno l'abbiamo viste, le temperature di stazionamento per i lunghi periodi consiglio in frigorifero, ok? Quindi il frigorifero è ottimo per il stazionamento per lunghi periodi. È importante nel lievito madre, in generale in tutti i lieviti, che la caraffa sia stretta e alta perché deve fare forza sulle pareti in modo tale che sviluppa. Tenere un lievito messo su una bacinella enorme con una pallina dentro lui si appiattisce e non fa forza, quindi perdi forza anche per questo motivo qua. Le caratteristiche di una gestione piemontese è che è facile tendenzialmente a gestire perché sta in acqua, richiede un po' meno farina diciamo per tamponare l'acidità perché ne ha meno, ha un ottimo sviluppo perché i lieviti lavorano bene, l'acidità lattica viene dispersa un po' nell'acqua quindi probabilmente ha un po' meno gusto del metodo classico milanese, però come faccio vedere nel percorso formativo pasticciera lievitata vengono i panettoni bellissimi, buonissimi e quindi per chi parte sicuramente è un buon metodo il metodo piemontese gestione in acqua. Un'altra cosa che si fa di solito a lievito sono i bagnetti. Ecco io per la mia esperienza personale, la mia personale esperienza bagnetti in lievito madre in acqua non è quasi mai bisogno perché appunto sta sempre in acqua quindi generalmente per un lievito libero, per un lievito nel sacco, diciamo questi due lieviti, lievito libero e lievito nel sacco, la mattina si procede a un bagnetto di acqua, un cucchiaino di zucchero o fruttosio, si mette nell'acqua perché? Perché serve un po' a basificarlo, a calmare gli animi, a addolcirlo, a pulirlo perché anche lo zucchero sotto ha delle funzioni, i patogeni vanno sul fondo perché lo zucchero li richiama, comunque il fruttosio o lo zucchero ossigena l'acqua, comunque l'acqua pulisce quindi si utilizza soprattutto per un lievito un po' acido che va un po' sistemato, mentre invece per un lievito in acqua io non ho mai trovato l'esigenza di fare il bagnetto la mattina anche perché sta sempre nell'acqua e fare un bagnetto in continuazione, anzi potrebbe essere controproducente, perché ovviamente voi lavate, lavate, lavate e quindi lo indebolite, ok? A differenza degli altri due metodi che il bagnetto invece è consigliato soprattutto se è un po' acido. Altre cose da dire sul lievito madre, ad esempio le acidità, ecco come si riconosce un buon lievito madre sia il colore visivamente, come si riconosce se in forma. Il lievito madre generalmente deve avere un color avorio, ocra, non proprio bianco candido, un po' avorio, un po' ocra, alveoli non enormi ma neanche piccolissimi, quindi tendenzialmente un po' allungati, deve avere un odore di pasta acida un po' alcolico, perché la fermentazione alcolica è data dai lieviti, la fermentazione acetica, quindi l'acetica si sente dall'odore, dai profumi e pizzica la lingua, la lattica invece dà gusto e dà un effetto anche che si appiccica un po' al palato, ma se in eccesso la lattica invece diventa un gusto amaro, quindi bisogna saper riconoscere la pasta acida, avere un sapore un po' alcolico, un sapore un po' di acido non in eccesso, tendenzialmente anche una punta di dolce deve essere equilibrata, se sa di formaggio vuol dire che è andato a male, è acido butirrico, se non sa di niente sa di farina, è troppo debole, se invece si sente questi aromi, questi profumi, un po' di acidità, un po' di alcolico, è un lievito che sicuramente è in forma, se gli alveoli sono piccoli piccoli è un lievito debole, se è troppo bianco è un lievito debole, se non sviluppa è un lievito debole, perché un lievito debole non riesce a sviluppare tanto, un lievito troppo forte sviluppa troppo rapidamente, ha un colore molto giallo, alveoli troppo allungati, un lievito invece equilibrato ha degli alveoli tondi, leggermente allungati, colore avorio, ocra, odore alcolico, leggermente acidulo, ma non esagerato, ok? Si può dare anche il piaccametro, però per esperienza personale, più per artigiani della qualità, ma soprattutto il piaccametro comunque non ci dà un parametro perfetto, perché va sempre, il lievito madre va assaggiato, va visto, va visto lo sviluppo, se un lievito madre ad esempio sviluppa due volte e mezzo il triplico in 3-4 ore va bene, ma se raddoppia in 4 ore è un po' debole, se un lievito madre in due ore triplica è troppo forte, ok? Quindi tutti questi sono parametri già che ti sto dicendo per capire un po' il lievito madre. La farina, la farina per impastare un lievito madre solido, è una farina di forza, è una farina panettone, è una farina comunque con un valore proteico circa del 14, 14% di proteine, quindi un PWL, un 400V, un 380V, quindi una forza abbastanza elevata. Quindi per concludere questo video il lievito madre in acqua è facile gestione, perché sta in acqua e l'acidità la disperde lì, ha un controllo dell'acidità, ha un ottimo sviluppo perché i lieviti lavorano bene, ha gusto, un buon gusto, di più quello nel sacco, ha una fermentazione sia lattica che acetica in equilibrio, è un lievito che come abbiamo visto va fatto riposare a 16-18 gradi di notte o in frigorifero, prima però va fatto sviluppare 3-4 ore fuori e di giorno invece va fatto lavorare a secco, c'è anche chi lo tiene sempre in acqua ma io di giorno lo tengo a secco e di notte in acqua. È un lievito che ha una facile gestione, controllo dell'acidità, ha un buon gusto e lo consiglio soprattutto a chi vuole partire. Poi se sei interessato a questi corsi ovviamente qui sotto c'è il corso pasticceria lievitata che ti insegna un po' tutti i lieviti, che ti insegna piccoli e grandi lievitati fino al panettone, potrai vedermi all'opera, potrai farmi domande e capire tutto quello che è intorno al lievito madre, alla pasticceria per essere padrone e saper gestire poi tu il lievito madre. Qui sotto c'è il tasto per iscriverti oppure puoi parlare direttamente con il mio operatore, c'è il tasto per parlare su whatsapp per capire quali sono i percorsi più adatti a te. Questo era un attimino sulla gestione del lievito madre in acqua, metodo piemontese. Ci vediamo al prossimo video dove vediamo il lievito invece, lievito libero, lievito licoli e lievito nel sacco.